La violenza nasce dalla codardia. Non fatevi ingannare. Per aver detto queste cose e difeso le mie idee, i conservatori mi tacciano di marxista. A me, che non ho mai letto Marx. E i marxisti mi tacciano di conservatore. A me, che ho sempre perseguito la libertà. E sapete cosa sono? Semplicemente un medico. Per questo sto dalla parte della vita. E mai, mai starò dalla parte degli assassini. Papà, noi non saremmo preoccupati per te se non sapessimo quanto è pericoloso il tuo impegnarti in questo momento. Se mi ammazzassero per quello che faccio, non sarebbe una bella morte. Non dire cavolati, i martiri, lasciamoli alle religioni, è meglio. Non ci posso credere, ci sto male, mi angoscia questo discorso. Possiamo parlare di cose più piacevoli? Papà, il problema è che non ti amano qui a Medellin. Amore, mi vogliono bene in tanti, ma non persone del tuo ambiente. Un giorno ti porto a conoscerle.